Paura nel cuore della notte a Badolato Marina. Poco dopo le due, in viale Aldomoro, una macchina ha preso fuoco. Una serie di boati ha svegliato gli abitanti del quartiere che hanno immediatamente avvisato i vigili del fuoco. Giunti prontamente sul posto, i pompieri hanno provveduto a domare le fiamme che rischiavano di propagarsi alle vicine abitazioni e a mettere in sicurezza l'area. Sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. L'auto è andata completamente distrutta.